Continua la campagna di prevenzione contro le truffe telefoniche. I carabinieri del comando provinciale di Belluno in collaborazione con Dolomiti Bus hanno allestito su dieci autobus la campagna che avvisa i cittadini a prestare particolare attenzione alle telefonate che chiedono soldi e dati personali. È una campagna di prevenzione grazie a dei chiari cartelli che gireranno su dieci mezzi nell'intera provincia e che lanciano un messaggio chiaro, prestate attenzione. Il fenomeno delle truffe è un fenomeno particolarmente aggressivo sul nostro territorio. Più le persone conoscono il fenomeno e come si svolgono questi contatti, più riescono a prevenire. Se vi vengono chiesti dati personali, ancora di più quando vi vengono chiesti soldi in contanti, in bonifici o gioielli, quella sicuramente è una truffa. Quindi chiudete la telefonata, avvisate il 112. I tentativi di truffe telefoniche sono costanti e colpiscono in maniera casuale. Una settimana fa sono state decine le telefonate arrivate al 112 per tentativi di truffe telefoniche operate verso gli anziani con delle tecniche che sono sempre le stesse. Quanti di questi tentativi di truffa sono andati a buon fine? Delle decine fatti, soltanto uno. Dolomiti Bus, oltre alla campagna promossa con l'arba dei carabinieri, ha investito in questi anni circa 500 mila euro per dotare di telecamere collegate direttamente con le forze dell'ordine tutti gli autobus, compresi quelli di vecchia generazione. E soprattutto per prevenire atti di violenza o di bullismo, sia come prevenzione, perché le telecamere funzionano anche da deterrente, perché se uno vede tutte le telecamere sta un po' attento. E anche se succede qualche fatto riusciamo a risalire a quello che era di quel momento. Il colonnello Pigozzo ha invitato tutti i cittadini a diventare portavoce della campagna per prevenire le truffe telefoniche che colpiscono soprattutto le persone più anziane. Chiamate la zia, il nonno, la nonna e informateli anche voi. Fatevi parte attiva. Ditegli che nessun carabiniere può ricevere denaro in contatti, che se ricevono una telefonata da una persona che non conoscono e si spaccia per carabiniere, avvocato pubblico funzionario, raccontandogli un fatto, tuo nipote si è messo nei guai, ha avuto un incidente, è stato arrestato. Quella è una truffa.